come primo e agli ottavi di finali per eh aver fatto al momento dodici punti otto punti c'è il Manchester City segue a cinque il Monce Glabat e a due c'è il Celtic Glasgow eh ovviamente ovviamente l'ultima giornata sarà decisiva per il Manchester City anche se insomma il Monce Glabat deve deve fare un grande miracolo andare a vincere a Barcellona quindi insomma diciamo che al novanta per cento il Manchester City si è qualificato per secondo io adesso però ti chiedo insomma visti i risultati di questa Champions eh di questa di questa Champions eh a questo in cui diciamo in questo turno eh insomma arrivare primi eh però ti porta anche a un rischio quello di incontrare il di incontrare qualche grande seconda che potrebbe essere esempio però c'è lo stesso rischio se si arriva a seconda certo se si arriva a secondi poi poi dopo poi più tardi più tardi ti dico una non si può ragionare così secondo me la grande squadra ragiona che poi vincere la coppa e basta appunto perché altrimenti che facciamo ma l'abbiamo vissuto? Arriamo terzi così non si affrontano nelle prime e nelle seconde diciamo che questo questa 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 mia considerazione è giusta è giusta no domanda è propedeutica a una cosa che poi dopo dopo la 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 seconda pausa ti 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 dirò Stefano e quindi analizzeremo perché paradossalmente bisogna di fare Real Madrid bisogna di fare Real Madrid non non vi lascia chi ci ascolta lo lasciamo con questo dubbio perché ti fare non si difa mai Madrid eh attenzione però 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 siccome abbiamo visto che in questi ultimi anni dal dal dall'urna eh usciva sempre Real Madrid il ehm la squadretta di turno mentre al Barca usciva sempre come nel la vittoria del duemila e quindici che abbattuò tutti i campioni no? Dal Manchester City campione Inghilterra al Paris Saint Germain campione di Francia al alla finale finale alla Juventus campione d'Italia e insomma mentre al Madrid capita sempre la Roma a pezzi di 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 Wolfsburg ecco insomma il Lugo Dores la gente qua e quindi e quindi ci potrebbe essere ci potrebbe essere questa cosa e invece qual è stato oltre a Leo il giocatore che ti è piaciuto di più ieri sera? Mi è piaciuto molto a mio avviso dietro Piqué sempre sia contro Celti e contro il Malaga ci ha messo veramente l'anima oltre che grande che oltre alla grande prestazione ci ha messo sempre l'anima comunque ha tirato come si dice la carretta fino alla fine poi mi è sembrato un po in ombra un po appannato Luis Suarez si deve un attimino riprendere comunque ha creato creato portiere ha fatto due grandi parti e ha preso un palo ha preso un palo ha preso un palo invece Neymar ha fatto grandissimo assist Neymar ha fatto un grande assist poi si sporca sempre le sue prestazioni con queste giocate esagerate la come direbbe Alberto la vueltita si fa la vueltita anche se poi è stato bravo Luis Sarica tornero perché si era beccato con il difensore si ha preso il giallo e quindi e quindi e quindi dovevamo dovevamo insomma tirarlo tirarlo fuori anche contro il Malaga ha fatto una una giocata super si bellissima io lì mi sono arrabbiato dallo stadio perché lui ha fatto la vueltita si però poi dalle immagini si è visto che in mezzo purtroppo non c'era nessuno quindi lui ha dovuto fare il ha dovuto tentare la terza terzo tocco purtroppo non c'era proprio nessuno e questa è una colpa di Pago Alcacere che era che era la punta che che ci doveva stare. Comunque è frumidabile Neymar perché non stiamo discutendo. No no assolutamente. Però con minimo di giudizio in più sarebbe veramente sono sono d'accordo d'accordo con te. Allora andiamo nella pausa Stefano e lasciamo i nostri ascoltatori questo dubbio perché ti fare Madrid tra quindici giorni o quanto meno non ti fare insomma sperare che non arrivi secondo. Ecco ce lo ne parliamo dopo eh tutto il camp è un camp è un camp. Som la gente del degli symboli eccolo di giudizio in vicino il fermato demand hectacolo. Si non sono VARCHA! 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 VARC e ovviamente l'Atletico invece le ha vinte tutte le partite compreso lo scontro diretto al Calderon contro il Bayern di Monaco e quindi è primo matematicamente l'Atletico Madrid ci potrebbero essere altre mine vaganti in giro le mine vaganti di seconde potrebbero essere intanto l'Arsenal perché l'Arsenal ha pari punti con Paris Saint Germain esattamente, nello scontro diretto ha parigiato 1-1 a Parigi ma il Paris Saint Germain ha parigiato nel senso che valgono i gol in caso di parità valgono doppio i gol esterni 2-2, sono a pari punti e 11 punti, se l'Arsenal vince col Basilea va a 14 punti ma dovrebbe sperare in un pareggio o una sconfitta del Paris Saint Germain a Parigi contro il Ludo Goretz mi sembra veramente assai, assai difficile è quasi impossibile questa cosa visto che Ludo Goretz ha due soli punti in classifica e come il Basilea l'ha fatti tutti e due con il Basilea come il Basilea quindi sono stati due pareggi e quindi anche l'Arsenal è una mina vagante e comunque sia come vada il girone del Napoli il girone B Benfica io penso Benfica o Napoli possono essere le prime se Napoli esce ha veramente buttato non è così semplice non è così semplice perché comunque deve fare almeno un punto esattamente esattamente e c'è il Besiktas che potrebbe arrivare secondo che non sarebbe male caso mai di affrontare e sulle altre insomma c'è il Siviglia ecco il Siviglia è una spagnola ricordiamo che l'ottavo di finale prevede che non si possano incontrare le squadre della stessa nazione più le squadre che ha incontrato nei gruppi allora facciamo finta che Real Madrid arriva secondo il Barça non può incontrare il Siviglia e Real Madrid che sono arrivate seconde ma non può incontrare neanche l'Atletico perché è arrivato prima dell'Espagnole e a quel punto a quel punto si riduce nettamente diciamo la il il cerchio sul Arsenal e su Bayern di Monaco invece caro Stefano se il Real Madrid arrivasse primo si sbloccherebbe una seconda che è il Borussia di Dortmund a quel punto ci sarebbero due tedesche in giro Borussia e Bayern bravissimo in cui sicuramente il Dortmund non può ricapitare a Real Madrid il Bayern non può ricapitare all'Atletico però avresti il 50% insomma che ti può capitare una tedesca e questo 50% lo dividi 25 sul Bayern e 25 sul Dortmund anzi aggiungo anche un'altra cosa Stefano che c'è anche un'altra tedesca in giro e che è il Leverkusen che è nettamente favorito per il secondo posto del Gironet manca un punto esatto e quindi a quel punto quel 50% che potrebbe capitare al Barca una tedesca tu lo dividi per tre mentre sicuramente lo devi dividere per due e io preferirei dividerla per tre perché potrei anche accettare di affrontare il Borussia Dortmund ma non vorrei affrontare il Bayern poi certo per il morale per il sorteggio che non sarà facile per perché ci ricordiamo che insomma se se il Real Madrid arriva secondo potrebbe incontrare la Juventus potrebbe incontrare il Paris Saint Germain però potrebbe anche incontrare il povero Leicester o il Monaco invece il Porto potrebbe essere un avversario del Barcellona il Porto potrebbe essere l'altro avversario addirittura del Copernaglia insomma ancora manca ancora troppo presto però 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 io voglio evitare viste i fatti degli anni passati però io invece vado controcorrente invece secondo me è meglio che il Real Madrid non arrivi primo fatto psicologico esatto fatto psicologico perché poi a quel punto nel mucchio chi peschi i peschi però invece alliello psicologico a quel punto il Real Madrid potrebbe avere meno autostima ecco sì 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 non ci dimentichiamo che poi c'è anche una cosa importante che è riuscito anche a rompere il giocattolo di Carlo Ancellotti cioè il mondiale per club che addirittura all'epoca si giocò vicino a Madrid perché in Marocco invece questa volta diciamo si va in Giappone come andammo noi lo scorso anno insomma c'è il rischio che magari anche lì conoscendo un po' il vestuario il spogliatoio del Madrid magari feste e festini tra Cristiano e Sergio Ramos magari insomma potrebbero ridompere lo spogliatoio vabbè comunque e poi dall'altro rischia un lungo infortunio Bale in questo momento a mio avviso più determinante di Cristiano Ronaldo al di là dei gol perché poi Cristiano Ronaldo almeno nell'ultimo periodo l'ha messa dentro più volte prima ha avuto un momento di si dovrà operare ma la Stefano Rizzo entra a piedi pari sul classico perché non riesce a frenare questa sua questa sua grande attesa perché ricordiamo il 3 dicembre alle ore 16 e 15 è stata di Camp Nou di Barcellona e Bale si perderà il classico del 20 del il classico perché il 29 di novembre 29 di novembre perché il 29 lo operano il 29 di novembre ah probabilmente perché devono aspettare certo ovviamente certo mi sembra mi sembra giusto perché il problema è che devono aspettare che anche la caviglia si sgonfi certo e hanno anche un brutto intervento perché deve essere deve essere deve essere operato alla caviglia e questo momento era il più in forma di tutti quattro mesi cioè almeno due mesi però però alcune fonti io leggo da mondo deportivo riportano addirittura quattro mesi perché non è un problema non è un problema solo muscolare ma anche un problema osseo e quindi insomma in questi casi vedremo perché adesso certo il Ramahid ha un buon vantaggio su tutte le altre a parte il Barcellona che comunque gli è ancora ha un tiro di schioppo perché quattro punti in una stagione così lunga sono recuperabilissimi il Sevilla è rimasto ancora un po' agganciato al treno che porta al titolo anche se con tutti i limiti del caso e poi il resto dovrebbe fare una rimonta pazzesca a partire dall'Atletico Madrid difficile rimontare nove punti sul Real Madrid e cinque dal Barcellona insomma non si è messo bene in classifica l'Atletico Madrid parliamoci chiaro questo poi vorrei anche dire la mia ti interrompo un attimo perché ti ho preso proprio per essere precisi anche con i nostri ascoltatori proprio il comunicato del servizio medico del Real Madrid che dice che appunto c'è bisogno dell'intervento chirurgico a Garrett Bale in conseguenza della lesione traumatica dei tendini del perone della caviglia destra quindi la cosa è molto più diciamo grande del fatto diciamo di solamente dei legamenti della caviglia perché qui parliamo dei tendini del perone quindi tendini e legamenti del perone e a questo qui appunto il 29 viene viene l'intervento verrà fatto all'ospedale King Edwards VII l'ospedale di Londra martedì 29 per due motivi uno quello che vi ho detto prima perché comunque quella parte del corpo